Il giorno in cui sono nata io è stato un giorno importante. I paesi d'Europa erano felici e pieni di speranza. Ma quella felicità non era merito mio. Quelle persone non erano felici per me. Alcune sì, naturalmente. Ma le altre lo erano perché stavano facendo il primo passo nel futuro. Il primo passo per costruire, cooperando con chi nel passato era stato un nemico. Quel giorno era il primo novembre 1993. Ero nata io. Ed era nata anche l'Europa. Un luogo nuovo, simbolo di possibilità e di progresso. Quella felicità non era per me. Ma lo era quella speranza. Perché oggi quel futuro, quell'Europa, sono diventati il mio campo di gioco. Un luogo dove le mie idee possono correre veloci per prendere forma. E io ho solo bisogno della mia occasione. Perché il futuro va veloce. Ma io so correre. E so che al mio fianco, io ho il giusto compagno di squadra. Agenzia Nazionale per i Giovani Young Europe U Il talento nella dimensione europea.